Eccoci qui con Michele Petroccia, non c'era in panchina Carlo Cancellieri, c'era appunto Petroccia direi, buona la prima. Sì assolutamente sì, il mister è in vacanza, ha bisogno di riposo, ho detto non ti preoccupare ci sono io, a parte le battute. Oggi è stata una bellissima partita, peccato per i gol, è finita 4-0 però secondo me può finire anche di più. All'inizio infatti era un po' preoccupato però dopo la fine andrà bene quindi sono molto contento di questo. Una vittoria importantissima soprattutto in chiave classifica, è la terza vittoria di fila, una vittoria che con ogni probabilità vi porta alla fase finale. Penso che sì, manca una gara quindi noi partiamo sempre un po' a rilento, ora abbiamo messo la giusta marcia quindi non dovrebbero esserci problemi dai diciamo così. Non c'erano né Totti né Floro Flores ma quest'oggi la Totti Sporting Club ha scoperto un grande giocatore, il 16 Sirbu, che prestazione? Il capitano e Floro insomma sappiamo tutti, non c'è bisogno di volta di ribadirlo, per noi sono fondamentali. Però anche senza loro insomma i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, Sirbu era alla prima e mi ha stupito molto, ragazzo molto promettente, molto bravo sì.